Un'impressione su questo comitato da Annalisa Chiric? È stato un comitato molto vissuto e credo che quantomeno sia emerso il fatto che i risultati negativi di questa fase pre-elettorale non sono soltanto il prodotto del regime ma sono soprattutto il riprodotto anche di una nostra situazione interna in cui evidentemente non è chiaro definire bene chi decide cosa e quindi poi le responsabilità e di conseguenza si arriva poi a uno sfilacciamento ecco di cui i militanti per primi risentono a livello locale. Grazie Annalisa Chiric